Allora è arrivato il momento di parlare di uno dei monumenti più importanti, più celebrati di tutta l'antichità, ma forse uno delle meraviglie del mondo. Infatti stiamo parlando del Colosseo, lo vedete, ne parleremo, ve lo descriverò, e il Colosseo a pieno titolo fa parte proprio delle sette meraviglie del mondo. Tenete presente che è l'unica meraviglia architettonica non soltanto italiana ma addirittura europea, tutte le altre sono in giro per il mondo, quindi davvero parliamo di un monumento che rappresenta da un certo punto di vista proprio l'orgoglio nazionale, parte della nostra storia. Ma vi voglio raccontare anche qualcosa che si rivelerà essere contraddittorio, come spesso accade. Perché dopo aver fatto tanta teoria, raccontandovi, illustrandovi le novità tecniche proposte dai romani, raccontandovi in cosa consistevano le tipologie edilizie messe appunto dai romani per replicarle in ognuna delle città che fondavano, in ognuno dei luoghi in cui andavano di insediarsi, ecco, ho l'occasione di parlarvi un pochino meglio invece di alcuni esempi importanti. Dopo questo video ve ne farò uno dedicato al Pantheon, ma intanto quindi un esempio dei tempi. Invece in questo caso parliamo del Colosseo. In realtà voi sapete che il Colosseo è un nomignolo, come dire, che gli è stato attaccato, adesso vi racconto anche il perché e la motivazione, il suo vero nome sarebbe Anfiteatro Flavio. Vi ho già parlato della tipologia dei teatri, vi ho detto che i romani li costruivano fuori terra, come potete vedere appunto, vedete che appunto è totalmente nel pieno centro di Roma, l'avete visto tutti mille volte, anche le cartoline, le visioni, insomma, ormai è un'immagine assolutamente consueta. Ma questa non è semplicemente un teatro, ma è un anfiteatro e vi ricorderete che abbiamo detto che l'anfiteatro in sostanza è una sorta di teatro doppio, cioè ha una forma chiusa, non è a forma circolare, ma è a forma ellittica, la pianta ellittica, perché in questo modo si poteva ottenere uno spazio maggiore sia per la vera e propria arena, laddove venivano organizzati gli spettacoli, sia per la cavea, appunto la grande gradinata che doveva accogliere tutti i suoi spettatori. Vi dicevo appunto che il Colosseo è talmente tanto importante, addirittura da comparire, forse non ci avete mai fatto caso, o forse sì, chissà quante volte, sulla moneta da 5 centesimi, quindi insomma così giusto per mostratela. Ma da dove deriva il suo nome? Allora, la storia del Colosseo è molto particolare perché, vi dicevo, da un lato è orgoglio nazionale, orgoglio addirittura mondiale, se vogliamo, no? È una delle costruzioni più interessanti mai realizzate. D'altra parte, si rivela in pieno per quello che era, cioè un'opera assolutamente propagandistica, non soltanto di tipo quindi funzionale, ma anche utilizzata, impiegata proprio con uno scopo prettamente, fortemente propagandistico, come vedrete. Vi sembrerà strano detto così perché voi dite, vabbè ma è un teatro, come si fa a impiegare un teatro per dei fini di propaganda? Cerco di raccontarvelo piano piano, facendovi entrare nella storia, partendo proprio dalla storia del nome di questo edificio. Allora, tutti quanti lo conosciamo come Colosseo perché il Colosseo sorgeva, qui ho trovato questa immagine che mi sembrava interessante, questa illustrazione, sorgeva nei pressi di quella che era una statua in bronzo realizzata all'epoca in cui l'imperatore era Nerone, una statua colossale che appunto effigiava l'immagine di Nerone, colossale perché appunto, mi riferisco a questo, uso questo termine, riferendomi alle sue dimensioni perché era alta più di 30 metri. Immaginatevi un tipo di rappresentazione, quindi una statua dedicata all'imperatore, un ritratto abbastanza inquietante nella dimensione, evidentemente, era proprio proposto come una divinità l'imperatore e tutti gli altri cittadini dovevano sentirsi quasi come piccole formiche, dei sudditi, ecco. Quindi il Colosseo verrà costruito nei pressi di questa enorme statua, da cui, siccome la statua era colossale, prenderà appunto nome, dalla vicinanza con questa statua prenderà nome appunto la stessa struttura dell'anfiteatro. La cosa curiosa è che nel momento in cui muore Nerone, la statua non viene immediatamente abbattuta, viene cambiata leggermente da quello che ci raccontano gli storici antichi e viene rinominata come se fosse battezzata, dedicata al dio sole. A questo punto Nerone è sparito dalla circolazione fisicamente e come effigio, come simbolo. Sappiamo che i simboli hanno una valenza importantissima. Quindi, come si fa a cancellare dalla statua un personaggio? In questo caso è stato un gesto molto intelligente ma molto violento, si cancella l'idea che questa statua sia Nerone stesso in persona, viene appunto rinominato e quindi improvvisamente ecco che Nerone scompare ed ecco comparire la statua del dio sole, ecco perché non è stata comunque abbattuta ed è rimasta nella sua sede a lungo, molto molto a lungo. Anfiteatro Flavio però, da dove prende il suo nome? Faccio vedere intanto le altre immagini così almeno vedete qualcosa di più interessante. Anfiteatro Flavio, quindi Colossio l'abbiamo capito, ma Anfiteatro Flavio deriva il suo nome dal fatto di essere un anfiteatro, cioè un teatro doppio, quindi a forma ellittica, poi vi faccio vedere meglio la pianta, Flavio perché era stato costruito dalla dinastia dei Flavi. Dovete sapere che l'imperatore Vespasiano era diventato imperatore dopo appunto la morte di Nerone e quindi la successione, era stata proprio una successione dinastica perché dopo la stirpe Giulio-Claudia, di cui faceva parte appunto Nerone, era salita al potere la dinastia dei Flavi, di cui Vespasiano era il primo rappresentante. Quindi Anfiteatro Flavio perché appunto verrà edificato per volere dell'imperatore della dinastia dei Flavi, in particolare verrà costruito, iniziato a costruire sotto appunto Vespasiano tra il 70 e il 71 d.C., verrà inaugurato nell'80 d.C. sotto l'imperatore Tito e verrà completato, secondo quello che ci raccontano alcuni storici dell'arte o archeologi, nel 90 d.C. dall'imperatore Domiziano, sempre della dinastia dei Flavi. Quindi ecco perché Anfiteatro Flavio davvero ha a che fare con questa storia dinastica. dove si nasconde la prima parte dell'essere un monumento tipicamente propagandistico? Si nasconde nel fatto che i Flavi, in particolare appunto Vespasiano, che aveva voluto la costruzione di questo grande teatro, di questo grande Anfiteatro, aveva voluto quasi restituire, regalare alla città questo luogo di svago. Perché cos'era accaduto? Tutti quanti voi dai libri di storia degli elementari, dai racconti, dai ricordi delle scuole medie, insomma, tutti quanti voi vi ricordate che a un certo punto a Roma era esploso questo terribile incendio che aveva divorato buona parte del centro della città. era l'epoca in cui era imperatore Nerone e Nerone, qualcuno continuerà a sostenere, poi finché non avremo delle testimonianze dirette, vi racconto la storia che tutti quanti già un po' sapete, conoscete, qualcuno sosteneva appunto che Nerone stesso fosse stato addirittura, come dire, il committente dell'incendio, ma che sia stato committente oppure no, la storia, questo e questo ce la racconta per davvero, ci racconta che tutta la parte centrale di Roma distrutta in questo incendio, non è stata, come dire, ricostruita per volere dell'imperatore Nerone e quindi immaginatevi la quantità di insule che erano andate perse, queste abitazioni per le classi più basse, per la plebe, immaginatevi, tutte queste enormi distruzioni, ecco, invece della ricostruzione, quindi di ridare i romani, ciò che i romani avevano perso, Nerone riquesirà tutti questi terreni nel centro di Roma per poterci costruire la sua meravigliosa domus, una domus, una residenza talmente avveniristica, decorata, con delle sale che avevano quasi un apparato ingegneristico che permetteva di aprire la volta, quasi qualcosa di futuristico, immaginatevi veramente qualcosa di incredibile per l'epoca di Roma, evidentemente, questa domus talmente mirabolante nelle decorazioni, nel materiale, nel lusso che mostrava, che addirittura viene nominata come domus aurea, cioè la domus dorata, d'oro. Ecco, quindi, immaginatevi che dove in questo momento sorge il Colosseo, ecco, Nerone prendendo, accaparrandosi quei terreni, no, che erano stati rubati ai poveri abitanti, no, ai poveri bei che avevano visto, avevano perso le loro case, ecco, al posto del luogo in cui ora c'è il Colosseo, Nerone aveva fatto costruire un lago privato, il suo lago privato della sua meravigliosa domus aurea. Ecco, quando Nerone esce di scena, drammaticamente, e diventa imperatore Vespasiano, Vespasiano compie il primo atto propagandistico, restituire idealmente il territorio alla città e quindi ai Romani, prosciugando il lago, o meglio, mantenendo l'impianto idrico che poteva servire, che poi ti racconterò, servirà anche per alcuni degli spettacoli che verranno organizzati all'interno del Colosseo stesso, ma in sostanza prosciugare questo lago e al suo posto costruire questo anfiteatro dedicato appunto a degli spettacoli pubblici che erano pagati dagli imperatori. Quindi, primo gesto propagandistico, come dire, l'imperatore Vespasiano dice, no, ma io non sono più come gli imperatori della stirpe Giulio Claudia che usurpano e tolgono ai Romani qualcosa, io dono, restituisco ai Romani, quindi no, primo gesto da grande imperatore che ha a cuore, se non altro, il divertimento dei suoi sudditi. Certo è che magari avrebbe potuto compiere altri gesti, magari meno interessati al divertimento e più alla sostanza, magari costruire delle case, delle insule, ma questo è un altro discorso, ma non sarebbero arrivate fino a noi le insule, quindi la storia è bella da studiare e studiare la storia dell'arte ci permette di visualizzare, no, molte volte questi gesti concreti. Io continuo a dirlo, a ripetere, non mi stancherò mai di dirlo, che le opere d'arte sono da un lato dei manufatti o dei monumenti che ci raccontano la storia del loro artista, dei loro artisti, dei loro committenti, ma e quindi possiamo ammirare in sé il loro stile, gli elementi, le fattezze, va bene, ma sono anche delle testimonianze storiche importantissime che ci raccontano la storia del potere, perché sono sempre realizzate, sempre, almeno nella parte antica, fino ad arrivare all'apittura dell'800, 1800, sto dicendo, sono sempre realizzate per la volontà di qualcuno che deve affermare le sue idee e deve farle prevalere e deve mostrarle, spesso appunto vantandosene con gli altri. In questo caso è un'opera tipicamente propagandistica, quindi il primo gesto l'abbiamo capito. Ora parliamo un po' della struttura di questo monumento in seda. Questa è la foto che non è bellissima, ma mi serve a mostrarvi la visione d'insieme dall'alto. Vedete appunto la forma ellittica della pianta. Allora parliamo di un monumento che aveva, che ha tuttora una lunghezza di 188 metri per 156 ed era alto 50 metri. Oggi l'altezza è solo di 48 metri, appunto perché come vedete il nostro Colosseo è andato in parte distrutto, è stato danneggiato. Torno all'immagine di prima. Se voi vedete questa incisione di Gian Battista Piranesi che risale alla fine del Settecento, è stata realizzata nell'epoca neoclassica, ma questo è un altro discorso, però vi faccio vedere che ci propone una visione che è diversa. Allora non è un errore di Piranesi e che proprio il Colosseo ha subito una storia drammatica anche nel tempo, perché vi racconterò cosa gli accadrà a un certo punto. Dicevamo la struttura quindi ellittica 188 metri per 156, l'altezza complessiva di 50 metri. Pensate che la sua costruzione, qui vedete una foto dell'interno ovviamente affollata di turisti, ma che ci mostra quello che resta oggi a noi della struttura. Ecco, vedete che questa era una parte che non si vedeva nel Colosseo, perché erano tutti i cunicoli sotterranei, quegli ambienti di servizio che servivano per poter permettere la vera e propria realizzazione degli spettacoli che avvenivano al di sopra della pista, quella che si chiamava la Arena, e poi vi racconterò anche perché prende questo nome. Quindi al di sotto c'erano tutta una serie complessa di stanze, di cunicoli, di collegamenti che molto tecnici e importantissimi perché servivano proprio come magazzino e per organizzare gli spazi dedicati ai diversi personaggi che dovevano comparire in scena. Detta così sembra una cosa di puro spettacolo, ma poi come forse già sapete appunto è la scena, la storia è un pochino più drammatica, un po' più complessa. Ma il Colosseo è anche molto molto interessante, lo vedete in questa foto sembra di starcene, che ne so, a Petra, in Giordania, laddove c'è un altro delle mie figlie del mondo, ma sembra quasi di fare un passo indietro nel tempo, con questa bellissima foto. Il Colosseo in realtà per noi è anche proprio il primo monumento che ci permette di vedere l'applicazione di quelle tipologie edilizie e soprattutto delle tecniche edilizie che vi ho raccontato. Vedete qui l'atterizio dappertutto, era costruito con l'atterizio, era costruito con il tuffo, era costruito in opus cementicium, presentava delle volte di collegamento, ne intravedete in alcuni casi, da alcune immagini poi le vedrete forse meglio, era rivestito in travertino e quindi il marmo bianco che serviva da facciata, dicevamo, ma all'interno c'erano l'atterizio, murasacco, opus cementicium, archi e volte, quindi davvero tutto quello che noi abbiamo detto fino qui. Come era organizzato l'interno? Vi faccio vedere delle foto di ricostruzione così avete un po' un'idea migliore. Qui vedete come doveva essere appunto nel complesso. Allora, al di fuori c'erano quattro, e ci sono ancora per quanto in parte danneggiate, quattro ordini, quattro livelli successivi in altezza, che erano costituiti per i primi tre da 80 archi a tutto sesto, in questo caso erano proprio gli ingressi che garantivano il vero e proprio ingresso appunto degli spettatori, che potevano poi entrare e andare a sistemarsi all'interno di tre gallerie, di tre gradinate, la cavea era suddivisa in tre diverse gradinate, suddivise in cunei, vedete appunto che ci sono come delle divisioni in spicchi verticali, ecco, questi cunei permettevano appunto a ognuno di raggiungere il suo posto, perché erano posti numerati, ognuno poteva entrare con la sua tessera ed andava ad assistere a questi spettacoli, a questi che verranno chiamati giochi. L'ultimo livello era realizzato con una galleria in realtà in legno, per cui oggi ovviamente non ci rimane quasi nulla, ed erano posti in piedi. Pensate che il Colosseo poteva contenere al suo interno 50.000 spettatori seduti e in generale, in totale, con quelli in piedi della galleria dell'ultimo livello, arrivava a 75.000 spettatori, quindi davvero degna di uno degli stadi più grandi che noi possiamo avere oggi, adesso non so quanto sia il Bernabeu, insomma, fate voi l'associazione. Intanto qui vedete appunto la presenza degli archi a tutto sesso ed evidentemente le ha copertura in volte, in volte a botte, quindi queste gallerie che erano coperte con le volte. Vedete anche che i livelli successivi di queste arcate in altezza erano occupati da delle statue decorative, che quindi rendevano l'effetto d'insieme ancora più monumentale, più spettacolare, più scenografico, più interessante. Vi faccio vedere ancora un'altra ricostruzione, poi torno sul dettaglio. Vedrete che, allora in sostanza, ecco qui vediamo quella complessiva, così come se fosse il Colosseo nuovo, appena inaugurato. Qui vedete anche la statua in bronzo di Nerone, poi nominato come Dio Sole. Vedete appunto che c'erano questi quattro livelli sovrapposti, tre con arcate e uno di muro pieno, poi lo analizziamo meglio nelle foto, ma l'ultimissimo livello presentava delle mensole sospese su cui venivano appoggiati dei pali linei che sostenevano un velarium. Il velarium è questa sorta di tendone che vedete che veniva disteso da un gruppo di marinai, pensate che erano abituati a governare le vele delle navi, serviva questo velarium o questo velario, diciamo all'italiano o all'latino come volete voi, per coprire gli spettatori dalla sole o dalla pioggia. Perché questi spettacoli potevano durare più giorni, avevano la durata di più giorni. Pensate, e qui capite davvero allora un po' di più quando vi dico che questa era un'opera di tipo propagandistico, pensate che quando il Colosseo è stato inaugurato appunto nell'80 d.C. dall'imperatore Tito, l'imperatore ha fatto organizzare uno spettacolo degli spettacoli che sono durati 100 giorni. 100 giorni senza soluzione di continuità di festa, spettacoli per il divertimento dei romani. Evidentemente avete anche già capito che nell'alloggiamento degli spazi si susseguiva con quella che era la suddivisione in classi sociali, quindi gli spettatori di classi sociali più alti erano quelli più vicini all'arena e mano a mano che si saliva ovviamente si allontanavano e la vista peggiorava. Ma vi dicevo, parliamo per un attimo della funzione allora di questa struttura di anfiteatro, perché io vi ho detto che venivano organizzati degli spettacoli grandiosi che duravano appunto anche per più giorni. Pensate che venivano definiti dei giochi. Ecco qui subentra una seconda parte abbastanza agghiacciante del discorso propagandistico che vi voglio raccontare, che voglio fare, perché quelli che venivano chiamati giochi appunto non erano altro che consistevano in spettacoli molto cruenti, molto violenti. C'erano diversi tipi di giochi. Allora, potevano essere organizzati delle scene di caccia, per cui potevano esserci degli animali feroci che venivano cacciati, va bene, questa era tutto sommato neanche così violenta. Potevano essere organizzate anche dei momenti di esecuzione o decapitazioni, ecco già questo invece aveva a che fare con qualcosa molto, che provocava un impatto molto più forte. Ovviamente venivano decapitate o eseguiti o veniva fatta l'esecuzione di persone che erano prigionieri, schiavi, che magari venivano da molto lontano e che quindi già facevano intuire agli spettatori romani che assistevano agli spettacoli appunto la loro superiorità nei confronti di questi personaggi, questi poveri disgraziati che arrivavano da chissà dove. Ma gli spettacoli che sono più celebri e per cui il Colosseo è più conosciuto erano ben altri, erano giochi di diverso tipo. Il primo che vi racconto era appunto quella che viene chiamata la naumachia, le naumachie. Potevo mettervi qualche immagine naumachie di ricostruzioni, non ci ho pensato. Che cos'erano le naumachie? Erano delle specie di battaglie navali. Immaginatevi che all'interno il nostro Colosseo aveva una arena, una sorta di palco, chiamiamolo così, ricoperto da tavolato di legno, ma poteva essere completamente impermeabilizzato impiegando la vernice che si usava per impermeabilizzare il legno delle navi, per intenderci, o altri stratagemmi, e veniva riempito d'acqua. La parte bassa veniva riempita d'acqua. In questo modo venivano costruite all'interno queste stesse navi, ricostruite questi galeoni, che dovevano affrontarsi tra di loro e quindi gli spettacoli erano questi arrembaggi violentissimi di equipaggi di navi diverse, ovviamente nemiche, ovviamente tutte nemiche di Roma, tutte buttate lì in mezzo nell'arena e che dovevano scontrarsi e ovviamente non erano dei giochi come simulazioni, c'erano dei veri e propri scannamenti tra appunto gli equipaggi delle singole imbarcazioni, quindi davvero erano scene di arrembaggio molto efficaci da vedere, evidentemente, ma molto violenti nell'effetto, ma anche spettacolari davvero. Poi c'erano altri tipi di spettacoli, anche questi li conoscete, li avete visti rappresentati in tanti film, erano i giochi gladiatori, voi sapete che i gladiatori erano questi prodi combattenti, spesso prigionieri di eserciti, valenti soldati di eserciti nemici che erano stati conquistati, che erano stati vinti, questi territori magari e questi eserciti erano stati vinti e quindi questi prodi soldati, invece di trasformarsi in semplici schiavi, venivano fatti allenare duramente per potersi poi esibire in questi giochi in cui ognuno doveva mostrare il suo valore, detta così sembra una cosa più sommato neanche male. In realtà, se ci pensate, ma già avete visto, ripeto, tantissimi film, quindi sapete di cosa sto parlando, tutto questo comportava l'annullamento della dignità umana e del valore del singolo, perché immaginatevi questi uomini molto forti, i più forti tra i combattenti di questi eserciti conquistati e vinti, dovevano sfidarsi uno contro l'altro per il puro divertimento dei romani e ovviamente si sfidavano a morte, quindi morivano, ma anche il più valido tra i soldati, dopo ore estenuanti di lotte, di battaglie contro altri bravissimi soldati sfortunati quanto lui, a un certo punto arrivavano allo sfidimento, quindi no, morivano tutti, morivano tutti, quindi il gioco dove stava era un gioco molto sottile ed ecco che arriviamo al cuore della propaganda, perché l'ultimo dei plebei romani poteva sentirsi superiore al più forte degli uomini conquistati che arrivavano dai luoghi più remoti dell'impero e quindi il cittadino romano più umile, più semplice, in fondo poteva sentire di valere molto di più perché la vita di questi illustri personaggi, magari davvero di cui nomi erano anche noti, celebri, importanti, magari che avevano sognato la storia di certi luoghi del passato recente, di certi luoghi lontani dell'impero, ecco il più umile dei cittadini romani poteva sentirsi superiore a questi personaggi che morivano per il suo ludibrio, che morivano per il suo divertimento, il cittadino più umile poteva sentirsi superiore a qualunque di questi schiavi, di queste persone ridotte in schiavitù appunto che provenivano dall'impero, dal lontano impero e quindi anche quest'idea dell'impero, di questa grandezza sconfinata rendeva in qualche modo orgogliosi i cittadini, questo vi fa capire quando si parla di propaganda, di propaganda politica forte, ecco pensate a questo, è veramente aberrante se ci pensate come concetto l'idea di mandare a morire delle persone per il divertimento, come si fa a divertirsi e a vedere le sfide impari, perché questi uomini spesso erano denutriti, stanchi, affaticati, provati da viaggi da luoghi lontanissimi, maltrattati e poi anche qui combattimenti, insomma sicuramente non gli rendevano onore, non erano alla pari ovviamente, ma l'altro grande gioco che tutti quanti voi già conoscete ha a che fare con un gioco tremendo, terribile, perché era quello che vedeva scontrarsi, anche qui in modo totalmente impari, i poveri schiavi, in questo caso davvero signori nessuno, non erano neanche valenti soldati, erano proprio civili, portati via infatti i prigionieri, portati via dai loro luoghi d'origine, portati a Roma come prigionieri, come schiavi e per il divertimento del pubblico questi schiavi venivano mandati a scontrarsi contro delle belve feroci, dei leoni e altri animali feroci che provenivano anche questi dei luoghi più remoti dell'impero, anche questo aveva a che fare con l'esotico, portava propaganda, perché se arrivavano dei leoni, se arrivavano che ne so, non so quali altri, se fossero leopardi, giaguari, non ve lo so dire questo, dovrei andare a controllare, magari fatelo voi, ma che arrivavano magari dall'India o dal Nord Africa, dipende dai tipi di animali evidentemente, ma queste belve feroci che non erano ovviamente, non avevano un loro habitat naturale a Roma evidentemente, arrivavano dai luoghi più lontani, erano bestie bellissime da vedere, terribilmente spaventose e immaginatevi che la scena cruenta consisteva nel vedere questi animali che sbranavano questi poveri uomini disgraziati che avevano conosciuto sulla loro strada, la sfortuna di venire sottomessi dai romani, quindi davvero un tipo di giochi, li chiamavano in questo modo davvero, che ci fa rimanere un pochino senza parole, che quindi questo grande orgoglio di cui vi parlavo prima, forse dobbiamo un po' storicizzarlo, perché davvero è significativo. La smetto quel discorso propagandistico, che però mi sta a cuore, perché davvero così capite anche il senso che hanno le opere, perché uno vede un'opera in sé, adesso analizziamo la parte stilistica e ci accontentiamo, bisogna sempre capire il significato storico che le opere hanno avuto. Ah ecco, vi spiego anche perché si chiamava Arena, ecco vedete che questa rete fitta di cunicoli che stava sotto gli spazi di servizio, a questo punto avete capito, servivano per ammucchiare gli schiavi o preparare i materiali per le neomachie, per costruire le battaglie navali oppure per alloggiare le belve, quindi tutti gli spazi dovevano essere assolutamente tecnici di servizio, molto funzionali, poi tutti gli spazi erano coperti da questi tavolati di legno e al di sopra del tavolato di legno veniva stesa della arena, cioè la sabbia, dal latino Arena Sabbia. Perché la sabbia? Perché la sabbia permetteva di assorbire velocemente il sangue versato, quindi avete presente quando non so, c'è un incidente, non so, anche a scuola, cioè succede qualche cosa, c'è un pasticcio cascala, anche dei liquidi, anche del caffè per intenderci, arrivano i commessi e magari stendono, che ne so, della segatura, perché appunto questa segatura assorbe il liquido e quindi permette di pulire facilmente il pavimento. Il principiero stesso, peccato che il liquido in questione fosse sangue, quindi l'arena era proprio questa sabbia che assorbiva il sangue e veniva risistemato da altri schiavi che avevano l'incarico di ripulire l'arena stessa con una nuova sabbia e, no, immaginatevi con questi scopettoni con cui sistemavano di nuovo la base e via che gli spettacoli potevano ripartire. Ma adesso parliamo di arte, cioè parliamo appunto di come la struttura del Colosseo è organizzata. Allora, in questo caso mi sta molto a cuore invece mostrarvi qualcosa che diventerà un elemento tipico dell'architettura romana e poi non solo perché l'architettura romana avete già un po' intuito che diventerà la base dell'architettura che incontreremo anche nei secoli successivi. Allora, vorrei farvi vedere che, dicevamo, è suddiviso e è organizzato sulla base di quattro livelli sovrapposti, dei quali tre si aprono con degli archi e uno ha una muratura continua, poi ne parliamo meglio. Ma vorrei farvi vedere che però, in questo caso, i romani mettono appunto una struttura che diventerà esemplare per buona parte dell'architettura che impiegheranno e cioè, guardate, gli archi a tutto sesto, che abbiamo capito che sono gli archi romani per eccellenza, sono sorretti, sostenuti dai dei pilastri, li vedete, di forma appunto quadrangolare. Quindi abbiamo il sistema archivoltato, fino qui niente di strano, ma vedrete che addossati a questi pilastroni che sorreggono gli archi a tutto sesto, ci sono delle semicolonne, semicolonne che a loro volta sostengono un sistema architravato, lo vedete meglio anche nel secondo e nel terzo livello. Quindi vedete, i pilastroni sorreggono l'arco a tutto sesto, ai pilastroni sono addossate delle semicolonne che nel secondo e nel terzo livello e anche nel quarto, anche se non sono semicolonne, poi vi dico cosa sono, sono appoggiate su degli alti plinti, questi basamenti, questi parallelepipedi che useremo la parola plinti ogni volta che dovremmo parlare di un basamento di forma parallelepipede, scusate. Quindi vedete che ci sono queste semicolonne addossate al pilastro e le semicolonne sostengono l'architrave. Quindi in questo caso vediamo che i romani mettono appunto un sistema che è duplice, che mette insieme il sistema archivoltato e il sistema architravato, come a integrare il sistema dei greci e il sistema che loro stessi i romani avevano così sapientemente saputo sviluppare e questo è sicuramente interessante. Tra l'altro vorrei mostrarvi appunto che, lo vediamo forse in un'immagine più ingrandita, ma non sono, vabbè ci facciamo andare bene una di queste, vorrei farvi notare che, intanto qui vedete il travertino, qui invece vedete la parte di sotto proprio di costruzione, quindi si svela anche la struttura stessa dell'edificio, ma vorrei farvi notare che le semicolonne che vengono impiegate hanno ordini architettonici che sono differenti. Salendo dal basso verso l'alto vado a illustrarveli. Allora abbiamo nel livello più basso, in quello che aveva le aperture delle proprie per gli ingressi, abbiamo delle semicolonne di ordine tuscanico, poi salendo troviamo, guardate un po', delle semicolonne di ordine ionico, riconoscete la doppia voluta spirale per quanto non particolarmente è sviluppata, poi salendo ancora troviamo delle semicolonne con capitello corinzio e al di sopra di questi tre livelli con le aperture, con le 80 aperture ad arco a tutto sesto, troviamo invece questo ultimo livello di muratura piena, perché era quello che all'interno abbiamo già visto corrispondeva alla galleria per gli spettatori in piedi, quella galleria linea, ma serviva anche per alleggerire la struttura, perché immaginate di nuovo, torno di nuovo indietro, immaginate di nuovo appunto qui la muratura doveva restringersi per permettere davvero anche la struttura di starsene in piedi. Ecco che però occorreva in qualche modo realizzare una struttura che alleggerisse la struttura insieme e la coordinasse al resto dell'edificio. Ecco che allora vengono inserite in corrispondenza verticale perfetta con le semicolonne, vengono inserite delle lesene. Cosa sono le lesene? Forse ve le ho già presentate, sono questi pilastri di forma piatta che hanno un capitello ma che hanno soltanto una forma e una funzione decorativa, non hanno una funzione di sostegno. Mentre le semicolonne sostengono l'architrave quindi in qualche modo contribuiscono alla suddivisione dei pesi, alla sopportazione delle spinte a livello proprio di statica, ecco le lesene quando compaiono negli edifici hanno soltanto una funzione decorativa. In questo caso però sono fondamentali perché provate a fare l'esercizio di eliminarle, vedreste che avremmo una sorta di grande anello circolare continuo, vi lo faccio vedere dalla ricostruzione finale, ecco avremmo questo anello continuo, immaginate di togliere queste lesene verticali, avremmo davvero qualcosa di pesante. Tra l'altro avete visto che alternativamente una sì e una no, una arcata sì e una arcata no, si aprivano appunto queste finestre che permettevano appunto anche in questo caso di alleggerire lo spazio. Qui vedete appunto invece le mensole a cui facevo riferimento prima, quelle su cui si appoggiavano i travi di legno che sostenevano il velario, passavano qua sotto l'architrave e il fregio, c'erano appunto dei fori, in queste foto non si vedono abbastanza, non sono abbastanza chiare, ma insomma qua c'era una parte di foro e questi bastoni passavano e permettevano appunto di sostenere il velarium. che cos'altro vi volevo raccontare? Vediamo un po' della struttura stessa. Allora delle semicolonne vi ho parlato, non mi viene in mente, c'è ovviamente qualcosa mi è sfuggito, mi verrà, ve lo metterò al limite nei commenti o nella presentazione del video se è proprio qualcosa di fondamentale che mi sfugge. Allora la verticalità, il verticalismo mi premeva di nuovo mostrarvelo per farvi capire come ci sia sempre una ricerca di equilibrio. Gli elementi scelti dagli artisti, qui sono sempre anonimi, non sappiamo chi siano, ma gli elementi scelti dagli artisti non sono mai casuali, sono sempre studiati e a lungo e quindi vedete che è fondamentale avere questa spinta verticale a livello visivo, inutile a livello statico, ma fondamentale per la continuità, il senso di verticalità e di ritmo che viene donato alla struttura in sé, quindi questo è davvero importante. Ok, la cosa che volevo dirvi che mi stavo dimenticando è che avete visto questa successione di ordini architettonici di tipo diverso, tuscanico, ionico, corinzio, corinzio. I romani impiegavano gli ordini architettonici in modo molto allegro, voglio dire che dobbiamo dimenticarci a questo punto quel rigore che io vi ho raccontato a proposito dell'arte greca, per ogni ordine vi ho dato addirittura delle regole, delle proporzioni matematiche che dovevano essere rispettate. Ecco, i romani allegramente impiegheranno tutto quello che gli serve, magari con finalità propagandistiche quando serve citare certi luoghi, oppure semplicemente per uno scopo che era quello decorativo. Certo è che se noi guardassimo meglio, se potessimo vedere meglio queste foto non sono così tanto chiare, l'architrave vedremo che è un architrave tripartito anche nel caso del primo ordine, sappiamo che l'architrave tripartito è quello dell'ordine ionico e poi corinzio, invece viene impiegato anche per l'ordine tuscanico, che è vero che la derivazione è etrusca, però voi vedete appunto che i romani allegramente usano un po' tutto come gli pare. Ora finisco con l'ultima, l'ho fatta già un po' troppo lunga, ma finisco con raccontarvi perché il nostro Colosseo è ridotto come noi lo vediamo. Dovete sapere che il Colosseo verrà impiegato come teatro, come teatro per spettacoli, ovviamente a questo punto di diverso tipo, non più soltanto quelli che vi ho raccontato, sarà in uso fino al VI secolo d.C., ma oggi il Colosseo che noi vediamo, vedete qui, torno proprio indietro, consiste nella sua proporzione quantitativa alle dimensioni di circa un terzo quello che era il Colosseo all'origine. Perché? Perché in particolare nel Medioevo, ma la pratica andrà avanti anche fino a tutto il Cinquecento e parte del Seicento, il Colosseo verrà impiegato come cava di materiali. Voglio dirvi che ogni volta che occorrevano delle pietre già lavorate, pronte da impiegare, del tuffo, dell'aterizio, dei materiali di costruzione di altre strutture, ecco, il Colosseo veniva impiegato come cava, quindi era in disuso, non veniva più impiegato come un anfiteatro, non serviva più per gli spettacoli e quindi le persone venivano autorizzate dai potenti di turno, dai governanti di turno e andavano a prendere questi materiali. Ed ecco che quindi il nostro Colosseo è stato spogliato gradualmente, lentamente della sua forma. Ecco che un'immagine di Piranesi, la rottura del Colosseo arrivi ad essere verticale in questo punto e poi vedete appunto che ci sono dei livelli diversi e poi invece non vediamo che ci sono dei tagli di altro tipo e che sono proprio veramente scomparse delle parti, perché immaginatevi che qui l'anello dell'Elisse appunto sarebbe proseguito, quindi davvero è molto curioso. Questa pratica di spogliazione, di reimpiego di materiali di costruzione antichi, si protrarrà, vi dicevo, anche nel Rinascimento. Pensate che a un certo punto un artista meraviglioso del Rinascimento pieno e maturo che si chiama Raffaello Sanzio, di cui noi parleremo ovviamente quando sarà il momento, a un certo punto scriverà una lettera accorata, molto sentita al Papa che era suo committente in quel momento, che era Leone X dei Medici, un personaggio molto potente, molto illustre, che l'aveva nominato come conservatore delle antichità di Roma. Siamo nel 1513 circa, saremo nel 1513 circa, e pensate che Raffaello scriverà questa lettera dicendo di fare finire queste barbarie, cioè questa opera di spogliazione, perché le opere del passato vanno tutelate, vanno custodite con cura. Ecco, sarà forse il primo gesto importante di tutela dei beni culturali. Ecco, possiamo veramente immaginarci Raffaello Sanzio come il primo che si è speso, non ha ottenuto grandi risultati, ma insomma il primo che si è speso, in prima persona per dire smettiamola di fare qualcosa di questo tipo, uno scempio nei confronti dei tesori dell'antichità.